Oggi è stato presentato un master che aiuta alla formazione dei giovani e dei nuovi manager del futuro. In che modo riuscirete a formare appunto questi manager? Innanzitutto voglio precisare che il master, noi stiamo collaborando, ma il master è gestito ovviamente dall'Università di Pavia. Noi abbiamo seguito questa iniziativa perché pensiamo che i manager, che tra l'altro questo è indirizzato ai attuali già executive, e quindi che gli attuali già manager possano avere un miglioramento, possono avere un contributo da questo master in termini di network, di specializzazione, di apertura al mondo digitale, di apertura al mondo delle tecnologie e di conseguenza poi migliorare la loro capacità manageriale quando rientrano nelle loro posizioni. Quindi quanto è importante appunto questo connubio tra la banca e l'università? Ma allora, noi collaboriamo con moltissime università, direi su parecchi territori nazionali, sul territorio di Pavia siamo particolarmente legati perché ci lega la storia, abbiamo avuto diversi percorsi insieme, tra l'altro alcuni molto interessanti che coinvolgono l'inserimento degli studenti direttamente nel mondo del lavoro. In questo caso è molto importante perché noi riteniamo che in tutte le industrie, quindi non solo quella bancaria, se ci sono persone competenti e formate, questo sia un contributo all'intero ecosistema dell'economia. Quanto sono importanti appunto le nuove tecnologie per la formazione di questi nuovi manager? Allora, le nuove tecnologie ormai sono pervasive, non ne possiamo più fare a meno, siamo tutti coinvolti dalle usi comuni, abituali, dalla vita comune alla nostra professionalità, i processi saranno sempre più digitalizzati, come nella banca, come nelle industrie, ormai se vai in un'industria vede praticamente tantissimi robot ed è un personale altamente qualificato che li sa gestire. Nella banca stessa cosa, noi dobbiamo migliorare moltissimo le nostre competenze, quello che stiamo facendo in termini di supporto e conoscenza finanziaria e le attività più operative possono essere assolutamente digitalizzate.